Una iniziativa quanto mai interessante ed importante sul piano pedagogico. Insegnare ai ragazzi a navigare nel mare di internet credere sia la cosa per chi ha detto quanto mai semplice, ma consigliare ai ragazzi di stare attenti alle zone in cui entrano, usiamo sempre la terminologia legata al mare a quegli isolotti che possono sembrare in apparenza dolci, gioiosi ma che nascondono gravi pericolosità si fa bene ad educare i ragazzi ad utilizzare internet e quanto è legato ad esso. Abbiamo presentato questa bellissima iniziativa culturale con le scuole che parla di cyberbullismo. È stato presentato questo libro Avanti Tutto, patrocinato dal Comune e soprattutto voluto dall'assessore, curato dall'assessore delle politiche scolastiche Francesca Barretta. Una iniziativa molto partecipata dai ragazzi, molto attiva si è parlato del cyberbullismo sui social media e io che sono una persona diversamente giovane, mi sono accorta stamattina i ragazzi sono molto attivi su delle piattaforme che a volte noi adulti sono proprio sconosciute TikTok, Instagram, ho sentito altre piattaforme partecipano a giochi a volte anche pericolosi e quindi parlare con loro, capire dove loro si dirigono e soprattutto avere una possibilità di controllo attraverso la scuola quindi di formazione, attraverso la famiglia attraverso anche l'amministrazione che possa promuovere delle iniziative importanti per poter permettere un controllo su questi social media è una cosa lodevole è importantissimo lasciare questo messaggio lanciare soprattutto ai genitori il messaggio del controllo e della presenza accanto ai figli non abbandonarli con i telefonini in mano perché molto spesso io ho una nipotina di 7 anni e proprio quest'estate stando più tempo insieme ho potuto vedere di persona che si collegano a siti accedono a tante immagini e a tante piattaforme che per noi adulti sarebbero inimmaginabili addirittura delle piattaforme che io almeno non conoscevo assolutamente e acquisiscono non solo un linguaggio molto più da adulti ma sono anche adescati da persone che purtroppo a volte hanno delle cattive intenzioni il pericolo della rete è come i ragazzi possono difendersi da queste realtà che purtroppo sono dei nostri tempi hanno risposto bene i ragazzi? molto, mi sono commossa a vedere la loro reazione e il Vincenzo Abbate, il fondatore di questa iniziativa insomma che porta avanti nelle piazze, nelle scuole questa realtà è arrivato al cuore dei ragazzi stamattina mi sono commossa voluto fortemente 5 anni fa questo progetto che si chiama Avanti Tutta è navigare nel grande mare di internet senza restare impigliati nella rete perché abbiamo capito che il quinto continente sta iniziando a fare danni irreparabili abbiamo voluto insieme a delle fondazioni ma anche a delle associazioni nazionali portare avanti questo libro che con poche pagine circa 64 saranno in tutto sì 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 molto molto bello l'associazione italiana giovani avvocati per le leggi a tutela dei bambini l'associazione per la dislessia quindi abbiamo utilizzato caratteri che comunque tutti possono utilizzare questo libricino una fondazione nostra campana, siamo fieri di Giuliano in Campania Adolescenze Estreme, qui c'è il fondatore che si prende letteralmente cura di ragazzi che subiscono ogni tipo di violenza abbiamo raggiunto oltre 50.000 ragazzi, più di 300 scuole e da lì è nata la passione di raggiungere ragazzi partendo dalla nostra città è nato un movimento con lo School Project che ha raggiunto oltre 50.000 ragazzi e io ho parlato ai ragazzi ora voglio approfittare di questo minuto per parlare ai genitori perché quello che sta mancando è questo se noi non aiutiamo i nostri ragazzi e siamo presenti in quello che fanno con chi giocano, quando sono sulla rete, quanto tempo fanno tutto questo con chi parlano perché molto spesso i ragazzi vengono lasciati alle moderne quelle che io chiamo babysitter virtuali che sono YouTube, TikTok, videogame ignari i genitori mentre come dicevo stamattina stanno cambiando il mondo, stanno perdendo i loro figli poi esce la notizia che l'adolescente ha combinato questo e quell'altro e tutto il mondo degli adulti punta il dito noi dobbiamo ribaltare questo principio riprenderci la nostra figura genitoriale lavorare insieme, scuola, famiglia, associazioni, territorio, chiesa perché io credo che questa generazione può cambiare se noi riprendiamo il ruolo che ci è stato affidato